La storia dell'immagine sacra della Madonna di Pompei inizia il 13 novembre del 1875 quando l'icona giunse nel paese dell'Inter al Napoletano su un carretto guidato da Angelo Tortora. La sacra icona fu regalata al beato Bartolo Longo da una suora. L'immagine malmessa subì una serie di restauri ma ben presto, accompagnata dalla fama di eventi miracolosi, divenne oggetto di culto di migliaia di fedeli. Ed intorno a quell'immagine che è stato costruito il santuario della Madonna di Pompei diventato uno dei luoghi di culto più famosi al mondo. Da ieri per tre giorni intenso il programma delle celebrazioni e di incontri nella chiesa di San Giuseppe a Salerno per far conoscere meglio la storia del carisma del santuario di Pompei e del suo fondatore l'avvocato pugliese Bartolo Longo. Le messe saranno celebrate ogni sera fino a sabato le 18.30. Oggi ci sarà Don Gerardo Albano, rettore del seminario Giovanni Paolo II di Ponte Gagnano, a presiedere la funzione religiosa. Domani la messa sarà celebrata dall'arcivescovo emerito Gerardo Pierro. Sabato da Monsignor Marcello De Maio, direttore dell'ufficio pastorale familiare e del consultorio familiare. Infine domenica mattina alle 11, ponteficale dell'arcivescovo Luigi Moretti. Grazie a tutti.